Torna questa tradizione che rende Treviso unica al mondo. Eh sì, il tempo corre, siamo già ormai a metà quaresima, quindi la nostra tradizione, cosa vuole? Il processo alla vecia. Passa il tempo, ma questo resta lo spettacolo che rende Treviso unica al mondo. Perché non esiste una comunità che almeno una volta all'anno ha il coraggio di criticarsi pubblicamente senza timore di risentimenti. Perché è questo il segreto del processo che si celebra a Ponte Dante la sera del giovedì di metà quaresima. Far tesoro col sorriso delle critiche che inevitabilmente arrivano un po' a tutti, siano esse istituzioni, forze politiche o del mondo produttivo, come semplici cittadini. E come da tradizione, nel mirino prima di tutti c'è il capo di questa comunità, ovvero il sindaco, che inevitabilmente dà il nome alla vecchia processata. Quest'anno processeremo la duchessa Marietta in marinaio. Perché in marinaio? Perché fa brutte promesse. Ma sì, abbiamo dato proprio questa definizione che malevolte tante promesse non vengono mantenute. Dal resto l'epigrafe che gli organizzatori hanno iniziato a distribuire da questa mattina in tutta la città parla chiaro. Politica che litiga, bollette e benzina rincarate, inquinamento e liste d'attesa della sanità sono solo alcuni capi d'accusa che saranno dibattuti prima che inevitabilmente, con un colpo d'occhio unico, le torce e i multicolori dei sub incendino il fantoccio sul sile, in quello che gli antropologi indicano come un rito di purificazione antico come l'uomo e che ogni anno coinvolge quasi un centinaio di persone, tra figuranti, tecnici, musicisti e volontari di protezione civile. Insomma una festa della e per la città, che da qualche anno viene proposta anche a gruppi di turisti dall'estero. Per ultimo l'appuntamento. Giovedì 7 marzo alle 20.30 presso il Ponte Dante e chi non poi vengono, che c'è sempre a diretta, ai 8.30 su Antena 3. Grazie. Grazie.